La professoressa Clara Balsano attenzionata nella sedicesima edizione del premio Medicina Abruzzo. Intanto raccontiamo che giornata ha trascorso quest'oggi nella sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara. Beh, è stato molto emozionante. Sicuramente è un premio dato a professionisti che si sono distinte nella regione Abruzzo e che fanno di questa regione non facile, danno lustro a questa regione non facile. Sono felice di essere qui. Le viene dall'ospedale di Avezzano dove tra le tante patologie tratta le malattie del fegato, dove tra parentesi siete un punto di riferimento. Ma nello specifico di che cosa vi occupate? Allora, le patologie del fegato vanno dalle patologie da virus, dismetaboliche, congenite, ce ne sono di tutti i tipi e noi le seguiamo tutte. In particolare la parte di ricerca è destinata in questo momento a quelle dismetaboliche che poi sono veramente una piaga perché il sovrappeso e l'obesità, noi sappiamo che è il male del secolo e chiaramente quindi il grasso nel fegato, osteotosi epatica, è uno dei più grossi problemi dei nostri tempi. Oggi si è dimostrato anche in questa sedicesima edizione del premio Medicina Abruzzo che si può fare della sanità di qualità anche in piccole realtà ospedaliere come Avezzano, piccole rispetto ad altre più grandi come Pescara, Chieti, Teramo. Sì, piccole ma piene di entusiasmo, con una grande bacino perché la Marsica ha un grande bacino di pazienti e quello che voglio dire è che in questo piccolo ospedale un po' periferico ho trovato tanto entusiasmo e supporto nelle iniziative, cosa che mi ha gratificato molto. Un premio da condividere con chi? Con tutti i ragazzi della Scuola di Medicina d'Emergenza e Urgenza, in particolare con la dottoressa Giovanna Fragassi e il dottor Giovanni Brienza che mi aiutano tutti i giorni e condividono con me il grande entusiasmo nella gestione del paziente. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci.